Era successo in alcuni comuni della provincia di Verona, ma anche nella marca trevigiana e ora a Casale di Scodosia, nella bassa padovana. Qualcuno, nella notte, ha smontato tre dossi rallentatori posizionati lungo via Ferraresi e via Argine, lunghi rettilinei fuori dal centro del paese. Lo ha fatto, mentre nella zona c'era una nebbia fittissima, togliendo decine di lunghe viti e gettando nel fosso i pezzi, ma rischiando la vita. Questi ragazzi o queste persone che si sono messi in mezzo alla strada di notte con la nebbia del sabato mattina, che era fortissima, hanno messo a repentaglio la loro vita per fare un gesto di dissenso, di dissuasori, di velocità, che per carità possono dar fastidio. Però andare a mettere a repentaglio la loro vita per fare un gesto di protesta mi sembra molto eccessivo. I dossi saranno prontamente rimessi al loro posto nelle prossime ore ed erano stati installati su richiesta dei residenti, che avevano presentato una raccolta firme, preoccupati per i pericoli che derivavano dalla velocità di auto e mezzi pesanti. Li rimetteremo subito, al più presto possibile, nel tempo che le imprese arrivano di nuovo e vengono rimesse di nuovo subito. Diciamo che noi questi dossi sono stati messi anche perché ci sono stati chiesti dalla cittadinanza. Ci sono stati dei cittadini in questa strada che sono venuti a lamentarsi che non riuscivano a uscire di casa e avevano paura dei loro figli. In quella zona si erano verificati incidenti gravi, anche mortali, calati ora dell'80% e trasformati in semplici tamponamenti senza conseguenze. Se qualcuno vuole protestare, conclude il sindaco, lo faccia venendo nel mio ufficio. Le porte sono aperte.